I consigli di Ruporosso, parte 2. La faccia buffa. Capita che chi ha le orecchie a sventola, o il naso grosso, o le soppercigliacce spugliose, oppure la pelle così piena di lentiggini che sembra la pelliccia del leopardo. Si senta come se fosse costretto ad andare in giro mascherato da carnevale e si vergogna. Tempo fa, bruttonatroccolo si era convinto di avere la faccia buffa, o peggio, proprio brutta. Si era concentrato su quelli che riteneva gravissimi difetti e li incolpava di tutti i suoi guai. Era diventato scontroso, si offendeva facilmente, trattava mai gli amici. E quando si è ritrovato da solo, ha dato colpa alla sua faccia, invece che al suo caratteraccio. Alla fine, bruttonatroccolo, grazie ai pazienti consigli di Ruporosso, ha capito che è importante avere qualcosa di caratteristico nel nostro viso, che ci distingua dagli altri. Qualcosa che ci faccia ricordare, che ci renda originari e interessanti. Anche se qualcuno è considerato un difetto, pensa che noi è se fossimo tutti uguali come i manichini dei negozi d'abbigliamento. E poi, non stare a pensare a come sarebbe migliorare la tua vita se avessi una faccia perfetta. E una perdita di tempo. E non è detto che sia vero. E non esagerare nel cercare di nascondere i tuoi difetti, o meglio, quelli che ti sembrano tali. Rischi di metterli ancora più in evidenza. Quando ti guardi allo specchio, concentrati sui pregi e non sui difetti. Devi essere tu, per primo, a trovare simpatica la tua faccia. Fine con da parte.